Sono 32 i Vigili del Fuoco partiti ieri dai comandi di Verona, Venezia, Padova, Rovigo e Vicenza per raggiungere l'Emilia-Romagna per l'emergenza maltempo. Le squadre facenti parte dei moduli della colonna mobile regionale del Veneto e Trentino Alto Adige della direzione interregionale dei Vigili del Fuoco specializzati per operare in ambienti alluvionali. Il personale è composto in particolare da sommozzatori, soccorritori speleo-alpino-fluviali, soccorritori acquatici e personale specializzato nell'uso delle motopompe. Le squadre si sono portate nella città di Faenza dove stanno già operando.